Sebastiani, c'è l'Arezzo, c'è soprattutto la volontà di cancellare quel pizzico di delusione legata solo al risultato di Perugia, perché la prestazione comunque c'è stata. No, io non direi delusione, perché quando esci dal campo consapevole di aver fatto tutto quello che potevi e soprattutto di aver fatto divertire quelli che ti seguono, quelli che ti amano, i propri tifosi, non ci deve essere delusione. Ci deve essere consapevolezza della propria forza, cercare di sbagliare qualcosina in meno e di fare continuare a crescere perché questa squadra ha ampi margini di crescita. L'Arezzo? L'Arezzo è una buona squadra, è una buona squadra che è arrivata quest'anno, ma da quello che posso aver visto è una società che ha costruito un bel gruppo di lavoro. Ritroviamo un nostro ex giocatore che era Cutolo, con il quale personalmente ho mantenuto un ottimo rapporto e quindi lo aspettiamo all'Adriatico sabato per giocarci questa partita. Presidente, la partita con il Pineto, a questo punto manca l'ufficialità, ma si farà ad ottobre, turno infrasettimanale. Slitterà lunedì la partita anche con il Gubbio, sempre per lo stesso motivo, lo stadio adriatico occupato? Sì, c'è questa manifestazione che purtroppo ci porterà a spostare queste due partite perché chiaramente c'è una manifestazione già organizzata in precedenza.